ciao a tutti ragazzi siamo in onda con un nuovo episodio per gta san andreas come non potete credere Toreno è ancora vivo credevamo che vi ricordate la missione credevamo che è stato investito da un esplosione delle rigotte ovunque eccolo qui Toreno in carne d'ossa no tempenni non mi sono mai fidato di quelli di loro tempenni sempre pensavo che sono stronzi scusate per la parola eh vabbè no 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 e tutto quello che ti ci parlavi non ti preoccupi il sweet è proprio non ti preoccupi si è chiesto un guarda di casa e trova che i figli della moglie e i figli hanno stato morti tutto è sotto controllo parleremo dopo vabbè no c'è vabbè ok si parte allora no 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 ma che ne devo rubare mi hanno basato una macchina Ti ho fatto una cazzata a buttarla nel lago, vabbè, incidenti che capitano, ah, oh, manco una macchina, oh, passa, vediamo se è che scattola qui, niente, bah, mi sa che dovevo tagliare il video, qui passano solo le macchine della polizia, niente, non passo una macchina, quindi devo fare dove tagliare il video, oppure no, ok, ok, no, eh, più o meno questa strada dove le fare, mmm, che palle, però forse fare meglio a tagliare il video, perché no, vorrei farvi vedere questa parte noiosa, quindi meglio. Ed eccoci qui, ragazzi, come potete vedere ho tagliato il video, ho tagliato un po' il video, quindi non potevo farvi vedere qualche parte noiosa, quindi che devo fare mo', ecco i raggi, quindi alla vettura, andiamo a vedere. Grazie. 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 Questa montagna o no? Mi sa che devo tagliare di nuovo il video che devo fare, oh no forse sto andando bene qui, forse qui, oh no, no. Ehm, dove capire le cose? Speriamo di non fallire, però dovrei tagliare il video. E' il primo in andato. Eccolo qua. Ah no, vado per abbattere l'altro. Sempre se riusciva a dare tutta la polizia, meraviglia. E' l'altro l'abbiamo abbattuto. Piuttosto impegnato questa missione. Mi ricordavo. Poi non me la ricordavo nemmeno. Cazzo, gli altri sbirri. E' l'abbiamo fatta. E' l'abbiamo fatta. L'ultimo è il ricordero abbattuto. Quindi... Ah no, non è finito ancora il pacco. Andando a... Andando a... Andando a uccidere queste rivoluzioni. E' l'abbiamo fatta. E' questa missione più impegnativa di... Di quella precedente. E non me la ricordavo nemmeno. O-oo-oo-oo-ooo, no 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 non cadere non cadere non cadere in acqua mamma mia i poliziotti ovunque e marmata che sono solo due stelle Se erano di più erano proprio Cavoli amari No, non so quanti minuti Quanti minuti sto registrando Poliziotti ovunque Poliziotti ovunque Quanti minuti No Mamma mia Ma anche i poliziotti kamikaze Ci sono Battuta C'è pure poliziotti kamikaze Che cazzo E ma dove la trovo una macchina Bellandoci do Tu vuoi E la smetti di scassare Che cazzo Che palle Pacco consegna Tutto sto modello Per mille dollari Vabbè Ragazzi Quindi comunque il video Questo episodio qui finisce Quindi Lasciate un bel mi piace Anche un bel commentino Ci vediamo alla prossima Al prossimo episodio Che ne vediamo Che ne vediamo delle belle Che cazzo Che cazzo Che cazzo